Allora, questa è la seconda parte di difesa con questa pistola. Prima abbiamo usato quando tu hai tirato la puntata che si è, questa pistola non è stata puntata su cui tu hai tirato in un'altra direzione, quindi questo è quello che fai sempre che quando sei difendente mai si è in fronte, mai spostare in questa direzione apposta che non la stai spostando, quindi si è spostata in questa parte o si è spostata in questa parte, no? Ok? Sì, questa attacca è una musica di questa posizione di ostaggio quindi questa posizione di ostaggio e quindi io mi dite i tuoi del seriale Ok, 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 da voi si ad entrare veloce alle aree, quindi ok, ok, ok che è che è nata le aree, sai vistola così, e con ponente di insomma te si posiziona il suo movimento, eh, il suo movimento della le aree trova così, e poi avete la mostrata prima, questo è più lungo di questo, quando tutto la le aree si vi lo piccata e lo fa che le zirate, no? Da voi si sa te la posizione, questo è quindi la mostrata da vivere, eh, cosa sta, ok? E tu ho detto che è Dieu del seriale, ok, 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 ok! è bellissima cosa, no? Da voi se la seconda...è te qui su che lui ti punti la puntata è in oga prima della musica in oga ma è sempre sempre tornare a girare girare velocemente ok 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 la vigata dipende dalla posizione poi da fare l'eleva e leare a continuare però è tutto veloce la vigata la servistola su come su mi importa la vigata la servistola qui andiamo da tornare a bidere ok 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 e leare la servistola ok